L'Eroe alla prova d'amore Commento di Mario Polia al quarto libro dell'Eneide Non ben mai, nemmai vi sarà alcuno tra i mortali in cui, fin dal momento della nascita, al bene non si mescoli il male L'Eneide contiene numerosi e illustri esempi atti ad illustrare le virtù ideali dell'uomo e della donna romani Per il Natale di Roma abbiamo circoscritto la nostra attenzione a un evento mitico, denso di pathos e ricco di significati L'amore tra Enea, profugo da Ilio, e di Done, regina di Cartagine Un evento che costituisce un exemplum di primaria importanza e di perenne attualità Lontano dal fragore delle battaglie trascorse, dalle fiamme che divorano la città natale Lontano dai travalli delle sofferte traversie e delle nuove battaglie che Nea e i suoi comites dovranno affrontare Una volta approdati alla terra prescritta dai fati come meta del loro errare Il quarto libro dell'Eneide è interamente dedicato a una tragica storia d'amore Di questa vicenda, da una prospettiva romana, cercheremo di evidenziare il contenuto etico e il messaggio che Per bocca del vate augusteo Virgilio, Roma intese e intende trasmettere Dopo aver difeso in vano la città di Ilio, o Troia, invasa con l'inganno e data le fiamme dagli Achei Obbedendo al comando divino, Enea abbandona nottetempo il suolo patrio assieme al figlioletto Ascanio e al padre Anchise Durante la fuga, per cause destinate a restare per sempre ignote, la moglie Creusa muore Profugo sul mare al comando di una flottiglia di venti navi Nel corso delle ardue peregrinazioni alla volta della terra d'Esperia, promessa dai fati Enea e i troiani che lo accompagnano approdano prima in traccia, poi a Delo Qui Enea consulta l'oracolo di Apollo, ma data l'oscurità del risponso che induce a un'errata interpretazione del volere del Dio Credendo di essere giunti alla meta finale, approdano a Creta Avvisati dell'errore dai patri penati, partiti da Creta, i troiani approdano ai lidi fenici Dove la regina Didone, che una morte prematura aveva privato del coniuge, riserva una squisida ospitalità ai naviganti stranieri E all'eroe che li guida Ferita dall'infallibile freccia di Cupido, Didone si innamora perdutamente di Enea Se non avessi fissa nel cuore e inalterata la volontà di non voler unirmi ad alcuno col laccio nuziale Dopo che il primo amore mi tradì con la morte e mi lasciò delusa Se non sentissi disgusto del talamo e delle facci nuziali Forse a questa unica colpa avrei potuto soccombere Durante una partita di caccia, un violento nubifraggio suscitato da Giunone Costringe l'eroe troiano e la regina a trovare riparo in una grotta Il solitario rifugio si trasforma in un'alcova fatale La trama, ordita dalle due idee, Venere e Giunone, è giunta a compimento Quel giorno fu l'inizio della rovina e l'inizio dei mali Né infatti di dono è mossa dall'apparenza o dalla fama Né ormai considera più quell'amore furtivo Matrimonio lo chiama e con tal nome la sua colpa riveste Essendo entrambi gli amanti vedovi Il loro coniugium non sarebbe stato a priori proibito A rendere nefas questo amore tuttavia concorrono in modo determinante Due insormontabili impedimenti di natura religiosa Sulla tomba del marito Didone aveva giurato eterna fedeltà Chiamando a testimone lo stesso Giove e gli dèi inferi E qualora avesse infranto tale giuramento Aveva invocato sulla propria persona la vindice folgore del padre degli dèi Riconosco i segni dell'antica fiamma Ma vorrei che prima gli abissi della terra saprissero O che il padre onnipotente mi scacciasse con la folgore tra le ombre Le palide ombre d'erebo e nella notte profonda Prima di violarti pudore o di cancellare i tuoi diritti Lui che per primo a me si congiunse Il mio amore mi tolse Lui lo parti con sé e lo conservi nel sepolcro Enea dal canto suo era stato investito da Giovedo una missione Cui non avrebbe potuto sottrarsi senza venire meno alla Pietas Che da sempre aveva contraddistinto il suo agire Rifondare in terra italica una nuova ilio Insediarvi sacri penati Dare origine a una discendenza regale Da tale lignaggio quando il tempo segnato dai fati fosse trascorso Sarebbe nata la madre dell'eroe fondatore dell'ultima ilio Destinata a risorgere dalle ceneri gloriose della città In vano difesa dal magnanimo Ettore Roma A Roma Giove avrebbe concesso Imperium Sine Fine Un potere garantito nei secoli Che l'avrebbe fatta sorgere a dominatrice universale La storia d'amore inserita da Virgilio nel poema Oltre ad esporre l'origine mitica dell'insanabile inimicizia Tra il popolo romano e cartaginesi Si proponeva uno scopo didattico Coinvolti in due differenti ed opposti destini Ma travolti dalla comune intensa passione ed amore Con il loro comportamento Enea e Didone si trasformano in esempi eloquenti Ed offrono al lettore l'opportunità di riflettere Su due diversi modi di vivere la passione amorosa E di reagire alle istanze del cuore Virgilio infatti rende pubblica l'insana passione di Didone E la colpevolezza di Enea i quali Ora, durante tutto l'inverno Covano nella lussuria In memori dei loro regni In preda una turpe bramosia Dei due protagonisti Seppur in modo non del tutto lineare Enea incarna i valori ideali del civis romanus Quel tipo di vir fedele al mos baiorum Nei principi e nelle opere Senza la cui attiva presenza nella storia Il compimento che la re Novazio Augustea si proponeva Sarebbe risultato una luminosa utopia Un programma di rifondazione dell'idea di Roma Quello di Augusto Di natura non religiosa ed etica Prima che politica La realizzazione del quale Era affidata a un tipo ideale d'uomo Forgiato nella tradizione dei padri Mosso da volontà sacrificale Aderente ai canoni Della visione del mondo romana Quest'uomo Nel poema virgiliano E personificato da Enea Questi è destinato a regnare sull'Italia Dilaniata dalle guerre E a generare dal sangue di Teucro Una stirpe che ridurrà il mondo intero In suo potere Pertanto Giove impartisce a Mercurio L'ordine da comunicare ad Enea Va dunque figlio E rivolgiti al principe Dardanio Che nella tiria cartagine indugia E non guarda alle città Che i fati gli hanno concesso Che navighi Tu ora Presa moglie Getti le fondamenta dell'alta cartagine E costruisci una bella città Dimentico ahimè del trono E dei tuoi destini Il sovrano degli dèi Mi inviò dall'Olimpo sereno Egli che col suo potere Fa ruotare il cielo e la terra Lui stesso ordina Di riferirti i suoi comandi Sul cielo e vento Che pensi di fare? E con quale speranza In terra di Libia I tuoi ozzi consumi? Se non ti spinge alcuna ambizione Di così grandi imprese Considera Scanio Che cresce E la speranza dell'erede Iulo Cui regno d'Italia E la terra romana È dovuta Cosciente che Tra i mortali Un uomo del tutto privo di difetti Non esiste Roma propone Un progetto di educazione Volto a realizzare Una persona capace Di superare La componente tellurica Dell'umana natura La humanitas Per attingere Alla piena realizzazione D'una potenza spirituale La virilitas Estesa a tutti gli stati dell'essere L'integrazione armonica Della humanitas Con la virilitas Della componente tellurica Con la componente spirituale Con i valori che allo spirito Fanno riferimento Fa della persona Un eroe In senso romano Lo rende esempio di vita Lo trasforma in archetipo Proiettandosi oltre la morte L'esempio dell'eroe Continua ad agire Come potenza vitale Nel flusso temporale Della storia di Roma Orientandone Il corso E i destini Come i grandi protagonisti Del ciclo epico-omerico Enea non incarna L'archetipo del cavaliere Senza macchie Senza paura In questi personaggi La potenza che li anima Li spinge ad affrontare E trascendere Debolezze Paure Interessi Dai quali essi Non sono affatto Immuni Ma che sentono Comunque stranei Alla propria vocazione Per indicare La sofferta Ma tetragona Resistenza dell'eroe Virgilio infatti Usa l'immagine Della quercia montana Squassata dai venti furiosi Che ne strappano i rami Scuotendo il forte Tronco annoso Senza però Riuscire a svellerlo Dalle tenaci radici Che s'avvinghiano Alla roccia Così Enea E scosso Dalle pietose Insistenti richieste Della donna amata Da assillanti richieste D'ogni lato L'eroe è colpito E nel grande cuore Avverte intensa La pena L'animo Resta in moto Le lacrime Scivolano via Senza esito La vocazione Dell'eroe Si manifesta Nella secondare L'innata pulsione Del suo nobile cuore Impegnando Senza riserve La propria persona E le proprie forze In vista Del raggiungimento Dei fini Che rendono La vita Degna Ad essere vissuta E trasmessa Si esprime Nell'affrontare Con coraggio Ogni ostacolo E nel superare Con costante tenacia Le inevitabili Difficoltà Che tale impresa Comporta Tra di esse La più grande E imprescindibile Consiste Nel vincere Se stessi Acquisendo La capacità Di impugnare Saldamente Le redini Della propria natura Per dirigerla Al compimento Del fine Cui è destinata Un antico detto Indiano recita Neppure gli dèi Possono mutare Indisfatta La vittoria Ad un uomo Che ha vinto Se stesso Questo tipo D'uomo Merita A Roma Il titolo Di compo sui Padrone di sé Un titolo Degno Del massimo Degno degli onori Degno 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 Degno